In casa Inter è cominciato il conto alla rovescia per portare in nero-azzurro Bremer. Domani l'incontro decisivo. Sarà un mercato un po' strano il mercato estivo perché con l'arrivo dei mondiali non penso che sarà un mercato molto agitato. Noi in ogni caso non faremo colpi di teatro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. So watch me. And I do not need your help. And I do not need your help. So watch me. And I do not need your help. 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 Grazie.